Attilio Urciuolo, comunicazione e marketing, pubblicità offline e smartphone. Ancora un altro centauro coinvolto in un sinistro stradale, ancora una volta, complice la bella giornata di sole e la voglia di una bella passeggiata in moto. Scenario la Valle Ufita dove ad avere la peggio è stato un 54enne di Mirabelle Clano che ha impattato contro un'auto in avaria lungo la strada. Trasportato d'urgenza per le lesioni subite al Moscati di Avellino è ricoverato ancora in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non incorre pericolo di vita. L'impatto incontra da Condottiello, un'arteria parallela che costeggia il tratto autostradale che da passo di Mirabella porta a Grotta Minarda. L'autovettura condotta da un 88enne del posto all'improvviso si è bloccata rendendo l'impatto inevitabile per il centauro che sopraggiungeva finito rovinosamente sul selciato. Il conducente non ha avuto conseguenze. I medici del 118 a corsi sul posto hanno trasportato il centauro al frangipane di Ariano da lì il trasferimento al Moscati dove il dettore ha ricoverato nel reparto di chirurgia d'urgenza. Sul posto giunti i carabinieri hanno chiuso la strada per metterla in sicurezza per ore interdetto il traffico veicolare. Su quella stessa strada tra quelle curve maledette nella domenica delle palme a pochi chilometri di distanza lo schianto di Pasqualino Pascucci, 35 anni di Sturno morto dopo 19 giorni di agonia. Lino è morto, l'autopsia sarà effettuata nella prossima ora poi la comunità sturnese potrà dargli l'ultimo saluto.